Buongiorno, buongiorno dalla redazione del DTV6, buongiorno in questo mercoledì 16 ottobre 2019. Andiamo subito a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali per rivivere quelle che sono state le notizie principali della giornata di ieri. Partiamo con le prime pagine dei quotidiani locali. L'edizione di Pescara del centro, l'apertura e la medesima e la seguente, pardon, rinforzi nei quartieri più a rischio a Pescara, postazioni fiste di vigili urbani per garantire la sicurezza. Sotto la testata la legge della Regione Abruzzo passa tra le polemiche la sfratta delinquenti dalle case popolari. Poi le parole dell'ex governatore Luciano D'Alfonso che dice ho tolto io card e benefit ai consiglieri. Scendiamo e siamo a centro pagina con la fotonotizia. Commozione e lacrime per l'ultimo saluto a Micaela, la giovane mamma uccisa dal compagno nel terramano a Nereto. E poi di spalla Abruzzo premiata da San Salvo e Tortoreto decisa la tappa del Giro 2020. Da San Salvo a Tortoreto sarebbe meglio dire. Poi andiamo a leggere nello specifico anche nel 2020 il Giro d'Italia attraverserà l'Abruzzo a meno di colpi di scena. Infatti ci sarà una tappa tutta abruzzese. la San Salvo a Tortoreto, una frazione che è stata oggetto in queste settimane di un lungo braccio di ferro. E poi sempre di spalla vittoria 5 a 0 una goleada dell'Italia con Berratti capitano, una abruzzese con la fascia di capitano appunto dell'Italia. Andiamo a vedere i richiami di cronache. Siamo a Pescara. Testa a giudizio accusato di falso sul dragaggio. il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ed ex presidente della provincia è stato rinviato a giudizio per falso per l'appalto del 2011 sul dragaggio ritenuto dalla procura pilotato. E poi ancora a Pescara, ospedale, hospice, piano per aumentare i posti letto. E poi ancora a Montesilvano, rissa nel locale, due fratelli in ospedale. Andiamo ancora sotto la fotonotizia, questa notizia davvero curiosa ma che ha suscitato tanto clamore anche in ambito nazionale. nazionale. Razzismo, il Pescara espelle un tifoso. Il club biancazzurro blocca un sostenitore su Twitter dopo gli insulti per un messaggio. E poi il buongiorno abruzzo di Giuliano Di Tanna, il metodo Mollica contro gli odiatori. Mollica e Vincenzo Mollica, storico giornalista del TG1, soprattutto nel mondo della cultura e dello spettacolo. Andiamo ora sull'edizione di Chieti-Lanciallo Vasto del centro. L'apertura, anziani truffati, spariti 10 mila euro. Chieti torna a colpire la banda dei falsi corrieri, indagini della polizia. E poi i richiami di cronaca a Chieti. Strada distrutta, ecco i cartelli di protesta. In via De Turre scoppia la rabbia per il cantiere che ha chiuso la strada da mesi. I cartelli di protesta sono stati appesi alle transenne, ma di felice promette fra qualche giorno rimetteremo l'asfalto. E poi a Ortona, cantina in crisi, il caso arriva in Consiglio. A Lanciano spunta un piano per salvare Palazzo Lotti. E poi ancora torniamo alla cronaca sotto, la fotonotizia. Ecco qui muore un mese dopo lo schianto. A San Salvo, Anna di Lisea aveva 59 anni, era finita contro un carroattrezzi sulla Trignina. Edizione di Teramo del centro. L'apertura, tempi lunghi per l'ex manicomio. Teramo a maggio parte il bando di gara per la cittadella della cultura. E poi i richiami. Ecco qui il PD di Teramo. Bloccati i fondi per gli eventi nel cratere. Il PD di Teramo accusa la regione non ha mai assegnato i fondi stanziati del Ministero dei Medi Culturali per realizzare eventi culturali e di spettacolo nel cratere sismico 2016. E poi ancora a Roseto, i 5 Stelle. Il PD si rinnovi e sarà alleanza. Ad Atri, nuova discarica, il progetto sarà modificato. E poi ancora operaia ferita, sciopero provinciale. Dopo l'incidente alla GLM. Ora i sindacati vogliono manifestare per la sicurezza. E andiamo sull'edizione aquilana del centro che apre così capitale dello sport, città spaccata. L'Aquila critiche al sindaco Biondi dopo la proposta. Ma c'è chi approva. E poi la fotonotizia che in questo caso nell'edizione dell'Aquila è diversa rispetto alle precedenti edizioni. All'Aquila il Nobel Thorn spiega il viaggio nel tempo. Il fisico statunitense ospite del Gran Sasso Science Institute. E poi ancora i richiami all'Aquila. Casa Museo, comune citato in tribunale. Gli eredi del benefattore Luigi Signorini Corsi hanno citato il comune in tribunale e violato l'onere testamentario a custodire e mantenere la casa museo donata all'ente. Poi ad Avezzano comunali stop al civismo dal centrodestra. A Prato la Peligna muore ora fa di 63 anni. Paese sotto shock. E poi ancora allarme alcol venduto ai minorenni. Raid dei teppisti in centro d'Avezzano risse tra bande a Tagliacozzo e Celano. Prima pagina del messaggero Abruzzo che apre così dragaggio testa a giudizio. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia imputato di falso in qualità di ex commissario per i lavori nel porto di Pescara il 10 febbraio in tribunale. Anche funzionari e imprenditori. E poi sempre a Pescara veleni mille volte oltre il limite. I dati shock sui depositi costieri. Perizia sui terreni contaminati nell'area di Properzio. Andiamo sotto la testata. Sempre a Pescara. Nuovi palazzi che cambieranno lo skyline della riviera. L'Aquila rinasce. Un nuovo parco per il castello a novembre. L'inaugurazione. E poi il calcio di Serie B. Sebastiani carica il Delfino e caccia il tifoso razzista. Il patrone non contano i moduli quanto la grinta. Quella vista d'Ascoli. Fissata al 24 di ottobre. L'udienza per il caso Macin al Tribunale federale. E poi di spalla non è Rom. I genitori di lei. Dicono no al fidanzamento. La fuitina interrotta dalla polizia. Il sogno della coppia rimane impossibile. In taglio medio anche la bambina ai funerali di Micaela Nereto. Lutto cittadino per la donna uccisa dal marito. Ieri appunto i funerali della sfortunata Micaela a Nereto. E poi ancora sempre in taglio medio. Case popolari sfratto in arrivo per i condannati. Approvata la legge regionale voluta dall'asse Fratelli d'Italia Lega. Giro di vite sulle assegnazioni. A Francavilla a spasso col cane trova un chilo e mezzo di eroina. E poi in taglio basso la polemica. Città dello sport. L'Aquila si divide. La prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo. Con questa apertura all'arma legionella anche in prefettura. Dipendente pubblica ricoverata in ospedale. Caccia il batterio a casa e sul posto di lavoro. Sotto la testata. Fronte università. Cittadella della cultura in appalto entro maggio. E poi sanità. Asle bocciata per il rifiuto degli atti sul project. Sempre sanità di Giosia dalla parte dei manutentori. A centropagina la fotonotizia. Addio Micaela lutto cittadino per la vittima di femminicidio a Nereto. E poi una serie di richiami. L'uscita del sindaco di Teramo d'Alberto Teatro Romano. Il sindaco evoca pressioni sulla fondazione. Scuole superiori a dicembre scatta il triplo trasloco. E poi contro la fusione Camera di Commercio verso il commissario Union Camere antidemocratica. E poi a Giulianova Parco Franchi dopo i vandali. La pulizia. Andiamo sotto la fotonotizia. Ecco i migliori chef abruzzesi. Secondo l'Espresso. Nico Romito e Sabattino Lattanzi al top. E poi a piedipagina sempre a Roseto. Studenti da giorni senza scuolabus. Per il calcio fronte Teramo. Costa Ferreira. Le sue parole. Bastano un paio di risultati positivi per la svolta. Lasciamo le prime pagine locali. Andiamo a vedere quelle nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Ecco qui l'apertura. Manovra al via. Divisi sul fisco. Conte scrive a Gualtieri. Lotta coraggiosa. Chi non paga le tasse o ci metto io la faccia. Riunione nella notte per mandare a brussare il piano dei conti pubblici ed esaminare il decreto sulle imposte. E poi di spalla leggiamo Siria e i russi intorno alla città di Mamji. Putin interviene per frenare l'avanzata turca. E poi ancora sempre di spalla l'anticipazione del libro del Papa. La terra è un dono per scoprirci amati e chiediamole scusa. La fotonotizia con appunto Franco Battiato. Il noto cantautore Battiato è il male misterioso. Ecco la sua ultima canzone. Si chiama Torneremo ancora. Registrata due anni fa. Andiamo avanti. Siamo sulla prima pagina di Repubblica. Come si uccide una fabbrica? A Napoli le garanzie del governo non convincono gli americani. Dal primo novembre a casa più di mille lavoratori. Manovra. si potrà scaricare la fattura dell'idraulico. Scontro con Renzi sul tetto dei mille euro per i contanti. E poi ancora a centropagina dagli elicotteri mangusta ai cannoni. Ecco le armi italiane per la guerra sporca di Erdogan. E poi a piedi pagina i delitti senza verità. Regeni. Le risposte che pretendiamo da Trump. Daphne Malta adesso paga per la sua morte. La prima pagina del fatto quotidiano. Ecco l'apertura. Chi vuole manette e chi carezze. Guerra all'evasione fiscale. Per conto e la soglia dei contanti deve scendere a mille euro. a Renzi va bene a 3.000. 5 Stelle PD divisi sul carcere. Poi ancora la direzione dei DEM. Il PD di Zinga cambia pelle e regole per il matrimonio con i 5 Stelle. Poi l'ex Silva di Taranto. Mittal. Nuo vertice. Arriva la Morselli che guidava la cordata concorrente. E poi in taglio basso Cucchi. Generale imputato. Passa all'incarico speciale. Ex capo dei corazzieri. Il Colle lo aveva allontanato. È l'ufficiale più alto in grado sotto processo per i depistaggi sulla morte di Stefano e da un mese è stato nominato capo di Stato Maggiore della divisione Unità Mobili e Specializzate dell'Arma. La stessa che parte civile contro di lui. Andiamo sulla prima del manifesto che apre così la linea russa. Mosca schiera nel Rojava. Truppe di interposizione tra l'esercito di Damasco, che rientra a Mamji, i turchi e i combattenti kurdi abbandonati da Trump. 300 mila civili in fuga, centinaia di vittime. Erdogan sul Wall Street Journal. Sosteneteci o prendetevi i profughi. E poi in taglio medio Whirlpool scappa subito da Napoli. Il governo spiazzato alla protesta degli operai che hanno occupato l'autostrada. La prima pagina di Libero che si concentra sul faccia a faccia tra Matteo Salvini e Matteo Renzi. Ieri sera a Porta a Porta da Bruno Vespa su Rai 1. Botte da Orbi tra i due Matteo. Scontro in TV Salvini-Renzi. Il fiorentino sono il nuovo Machiavelli. Ho fatto un'operazione di palazzo. Il leghista, un italiano su tre, è con me. Lasciateci votare o torna l'invasione. E poi ancora il salasso viene di notte e le tasche sono rotte. La manovra della sinistra è soltanto un tentativo di sprevere ancora i contribuenti. La prima pagina del messaggero che apre così. Quota 100 resta. Scontro sul fisco. Manovra. Primo sì alla bozza per l'Unione Europea. Tetto al contante. Duello tra Conte e Renzi di Maio. Sfida sul carcere agli evasori. Taglio del cuneo per i lavoratori statali. Aumenti solo per 50 euro. E poi lo sport sotto la testata. La sentenza UEFA. Saluti romani. Lotito evita la stangata. Chiusa solo la curva nord per la Lazio. Nella prossima gara di Europa League con il Celtic. Lichtenstein K.O. La Giovenitalia regala a Mancini il record di Pozzo. 5 a 0 e nona vittoria. Andiamo in taglio medio con la fotonotizia. L'eredità dolente di Battiato. Ultimo brano. Torneremo ancora. Testamento del cantatore. Grevemente malato. E poi ama ai netturbini. Multate i rumani o pagherete voi. Roma. La municipalizzata spedisce 300 addetti a fare sanzioni mentre le strade sono invase. La prima pagina del giornale che apre così. Manovra da incubo schiaffo ai pensionati. Il governo conferma per ora quota 100 ma il ricalcolo è umiliante. 50 centesimi al mese. Stangata su plastica e giochi. Una beffa il taglio del cuneo fiscale. I contanti sono il diavolo. Torna il limite a 1000 euro. E poi il confronto a porta a porta finta rissa centrista fra i due Matteo. Salvini e Renzi lite farsa in televisione per cercare i voti dei moderati. La prima pagina del sole 24 ore. Manovra sul filo degli incassi 2020. Lungo confronto tecnico sui 3 miliardi contabilizzati sull'anno prossimo. clausole IVA sterilizzate. Bloccati gli aumenti per 23,1 miliardi di euro. E poi il rinnovo di contratti pubblici per il triennio 2019-2021. Stanziati 3,1 miliardi di euro. Andiamo in taglio medio. Doppia sanzione per chi non permette l'uso del POS ai clienti. Tetto all'utilizzo del contante riportato a 1000 euro. Conti dedicati per studi e imprese. Poi la fotonotizia. Flixbus estende la sua sfida alle ferrovie. Treni low cost dopo l'esordio in Germania. La compagnia punta a Svezia e Francia. La prima pagina del mattino. L'ite sul fisco resta a quota 100. Primo sì alla manovra. Tetto al contante. Carcere agli evasori. Scontro tra Conte e Renzi. Più soldi in busta paga ai lavoratori. Cedolare secca sugli affitti per sempre. Ma sale al 12,5%. E poi ancora la fotonotizia. Abbandonati. Whirlpool chiude. Acquirenti verso l'addio. La crisi. Il governo non convince l'azienda. Fabbrica occupata. E poi disastro circum. Al lavoro e a scuola. A piedi sui binari. Napoli. Si ferma l'ennesimo treno dei pendolari. Centinaia di persone a bordo. costrette a scendere. Andiamo sulla prima pagina della stampa. Una manovra che sfida gli evasori. Conte teme le lobby in aula e scrive a Gualtieri. I politici hanno paura di giocare questa partita. Il Bancomat diventa universale. Tetto di 1000 euro per il contante. Non al carcere per chi truffa il fisco. E poi la fotonotizia. I due Matteo da Vespa. Scintille in tv e flirt dietro le quinte. Poi in taglio medio. Siria e cambio della guardia. I russi al posto dei soldati USA. Trump invia Pence per ottenere la tregua da Ancara. Andiamo sulla prima pagina del tempo. Che apre così come Monti. Guerra alle banconote. Manovra. Fino a tardanotte litigano tutti sulle tasse e sulle manette destinate agli italiani. Torna lo spettro del tetto massimo di 1000 euro per spese in contanti. Stessa scelta del prof. Poi il tempo di Oscio. Duello insipido fra i due Mattei da Vespa. E allora c'è una foto di Terenzil nei panni di Don Matteo. Che vi costava invitarne un altro. E poi ancora di spalla. Bergoglio nomina Gauzzi Broccoletti. Il vice di Gianni. Nuovo capo dei gendarmi del Papa. Truffati pure. Bonanni e Gamberale. Presa una talpa all'Inps. Rubava pensioni dei VIP. E poi ancora verso Euro 2020 la Nuova Italia travolge 5-0 il Liechtenstein. Reportage dopo Desiree a San Lorenzo solo i pusher. Reportage appunto dal Palazzo del Delitto. Nulla è cambiato nonostante i proclami. Scappati però i ragazzi per bene. La prima pagina del secolo che apre così con questo fotomontaggio in primo piano. L'amico di Erdogan. Conte vuole la Turchia in Europa e se ne frega del rischio di islamizzazione del continente. Poi tre richiami in taglio basso. Mambro e Fioravanti. Non eravamo a Bologna. E poi ancora missili italiani in Turchia. Ma non ditelo a Di Maio. Immigrati aprono azienda. Meloni diano cauzione. La prima pagina della verità. Ai pensionati danno 6 euro l'anno. Nella lotteria della legge di bilancio dove le tasse entrano ed escono. Si profila una presa in giro colossale per compensare Balzelli e Rincari. L'esecutivo vuole sbloccare l'indicizzazione degli assegni. Risultato 50 centesimi. Lordi in più al mese. Salvini sfida Renzi da Vespa. Il Bullo ammette l'imbarazzo su Conte. Però lo vota. La fotonotizia. Il Papa a colpi di nomine. Si fa il partito per cambiare la Chiesa. E in taglio medio. Allarme RAI. Crollano i Tg filo governativi. Domani ci dia sul flop di ascolti dei notiziari dopo la svolta giallorossa. Salgono solo i regionali. Proseguiamo con la prima del secolo XIX. Vediamo l'apertura. Tetto all'uso del contante e multe ai commercianti se rifiutano carte di credito. Nella notte il governo ha discusso le misure all'insegna della lotta all'evasione. 3 miliardi per tagliare le tasse in busta paga. Resta quota 100 per le pensioni. Renzi Salvini. Duello in tv tra battute e accuse. E andiamo a chiudere questa parentesi con la prima pagina dell'avvenire. Stretta sull'evasione. Ritorna il tetto a 1000 euro per i contanti e multe per chi non accetta le carte. Lotteria degli scontrini. Taglio del cuneo fiscale ai lavoratori. Non alle imprese. Il governo invia a Bruxelles il documento programmatico di bilancio. Pronto il decreto fiscale. Scendiamo in taglio medio. L'invasione. Putin media tra Erdogan e Assad. Trump invia Pence ad Ankara. L'Italia conferma. Blocchiamo le armi. La diplomazia di Russia USA prova a fermare la Turchia. E poi ancora migrazioni. Morti in mare insieme. Altri 180 messi in salvo. Corpi sui fondali di Lampedusa. Madre e bimbo abbracciati. Lasciamo i quotidiani nazionali e ritorniamo su quelli locali. Siamo su pagina 2 del centro. Ecco qui con i provvedimenti presi ieri dalla regione. Delinquenti sfrattati dall'Ater. Case popolari. Passa la legge targata Meloni. Il governatore esulta. L'opposizione accusa. In aula il voto. Tra le polemiche. Niente alloggio persino a chi offende la bagniera tricolore oppure la divisa. E poi ancora l'avvertenza che arriva in aula. Niente contratto. Doccia fredda per 135 precari della giustizia. L'assessore al lavoro risponde all'interrogazione di Pettinari. Restano dei tirocini. Il bando per le assunzioni lo ha fatto il ministero. Ma l'Abruzzo nella lista non c'è. Andiamo nella pagina successiva. Con le parole dell'ex governatore Luciano D'Alfonso. Carte di credito. Siamo stati noi a toglierle. Il senatore PD dice. Abbiamo azzerato i rimborsi dopo lo scandalo della giunta Chiodi. Ho portato all'Abruzzo più soldi io di Gaspari. Marsiglio trasformi i progetti in realtà. E poi ancora Fioretti gela Marsiglio con il di Lorenzo Bis. Nomina all'ASP il leghista spiazza il presidente. Sui fondi per l'agricoltura va in scena. Lo scarica Barile. In basso ancora leggiamo il guerriero sfida Alberto D'Agiussano. Il PD sfoggia in aula il simboletto sulla giacca. E sfotte il carroccio. E la contesa degli spillini. Proseguiamo. Pagina Abruzzo. Pagina 10. Il Nobel Thorn spiega il viaggio nel tempo. Il fisico statunitense è vincitore del prestigioso riconoscimento. Ieri all'Aquila ospite del Gran Sasso Science Institute parla il genio. Esistono due modi per guardare l'universo. O attraverso le onde elettromagnetiche. Oppure attraverso le onde gravitazionali. E poi alunni in campo con la protezione civile. All'Aquila giornata all'insegna di prevenzione e divertimento. Con le scuole Collodi e Giovanni XXIII. Proseguiamo. Siamo sulle pagine di Pescara. L'argomento in questo caso è quello della sicurezza e dei controlli nelle periferie. Postazioni fisse dei vigili in tutti i quartieri a rischio. Già operativa la prima sede della Polizia Municipale nel rione di Fontanelle. Masci, il sindaco. Presto saremo presenti anche a Rancitelli, Zanni e Sandonato. E poi le reazioni con le parole di Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale. Un primo passo e poi Pignoli, dell'Udc di Pescara. Una grande giornata. In basso altre reazioni, quelle dei cittadini in particolare. Telecamera ovunque. A Rancitelli il comitato di quartiere chiede al comune anche le luci d'artista e uffici municipali nei palazzi clerico. Allora andiamo a vedere il servizio andato in onda nel Tg6. Diventa realtà l'apertura del distaccamento di Polizia Municipale in via caduti per servizio nel quartiere Fontanelle a Pescara. L'annuncio questa mattina del sindaco Carlo Masci che con l'assessore alla sicurezza del Chiesulpizio ed il comandante della Polizia Municipale Danilo Palestini ha spiegato i dettagli del provvedimento che va nella direzione di una maggiore sicurezza come richiesto dai residenti e come spiega il comandante della Municipale. È già iniziato venerdì scorso. Per quanto riguarda l'articolazione, è un'articolazione che al momento prevede sia nel turno antimeridiano che nel turno pomeridiano in una suddivisione settimanale un presidio di sia agenti in divisa che agenti in borghese che coadivano per quelli che sono gli interventi più urgenti e particolari i colleghi che sono sul territorio o meglio in questo momento nella sede dell'associazione di via caduti per servizio per raccogliere le istanze dei cittadini oppure per stare vicino a loro e fargli sentire il più possibile la vicinanza dell'organo di governo attraverso la Polizia Municipale e al territorio. Fra i promotori dell'apertura del Presidio dei Vigili Urbani, il capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli che chiede di estendere il servizio anche negli altri quartieri periferici della città. In campagna elettorale, quando ho fatto il tour delle periferinze ma al sindaco, avrei detto e ho detto ai cittadini che non mi sarei tagliato la faccia questa volta rispetto a degli impegni presi in campagna elettorale. Oggi questo punto in realtà, però come ho detto in conferenza stampa, è una goccia in un mare magnum per cui avanti così, bene così, ma bisogna ovviamente coprire le intere periferie. Questa amministrazione per cui l'Udc è stata determinante affinché vincesse al primo turno ha firmato un programma, il programma dice le periferie al centro, per cui si sta rispettando egregiamente il programma. E a breve partirà anche un servizio di ascolto fortemente voluto dall'assessore al disagio sociale e che coinvolgerà i quartieri periferici di Pescara. Abbiamo elaborato questo progetto dove ci saranno due punti di ascolto proprio per aiutare queste persone disagiate. Uno lo metteremo come ufficio qui in comune e uno sul territorio. Proseguiamo sulle pagine di Pescara del centro. Fiaccolata per i poliziotti uccisi, omaggio agli agenti morti a Trieste, alle 20 davanti alla questura, anche a Masci con il Consiglio Comunale. Poi ancora per la cronaca investita davanti alla provincia, incidente in Piazza Italia, la donna di 59 anni, è ricoverata in neurochirurgia. Avanti ancora Dragaggio testa sotto processo per falso l'ex presidente della provincia. Tra i 13 rinviete giudizio per l'appalto del 2011 che secondo la procura sarebbe stato pilotato. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia avrebbe attestato una circostanza non vera all'apertura dei plichi a 11 imputati, tra cui il responsabile unico, Bella Fronte Taraborrelli, contestata la turbativa d'asta. C'è la replica dello stesso Guerino Testa. Farò emergere la mia estraneità. Andiamo avanti, scendiamo in taglio medio, sempre sulla medesima pagina. Rigopiano, il GIP decide sui politici e domani tocca all'ex prefetto. Oggi si discute dell'opposizione alle richieste di archiviazione. Ospedale, i servizi, hospice, piano per l'ampliamento, raddoppiano i letti per i malati. Previsti altri 10 posti, ambulatori e nuovi ingressi. I lavori entro l'anno, altre strutture appenne popoli, cure palliative. Il manager ASL dice abbiamo bisogno di tre medici per garantire l'assistenza domiciliare. E poi, in taglio medio, ma scatta l'allarme per i tumori della pelle. Caporale, direttore di Otorino Laringo Iatria, pazienti in aumento. Ecco come fare, prevenzione. Proseguiamo. Aeroporto, ricorso sui taxi, scontro comune e regione. La giunta comunale autorizza l'ufficio legale a impugnare l'atto di Marsiglio. Che apre le porte agli operatori di Chieti. Sarà il tarra stabilire chi ha ragione. Pagine di Montesilvano con l'intervento in Via Mincio. Servizi sociali nella villetta confiscata. Consegnato all'azienda speciale l'immobile appartenuto ad una famiglia Rom. Bagno con idromassaggio, portico e giardino. Soddisfatto il sindaco De Martinis. L'ente nazionale dei beni confiscati ha risposto positivamente alla nostra richiesta. Ora sarà destinato alle categorie più deboli. Poi scendiamo. Terminal Bus, progetto in addirittura d'arrivo. Ieri primo incontro, poi proseguirà quello con De Martinis e Giuliante. Protestano Dog Village. È anno zero. La cronaca, sempre a Montesilvano, in particolare in Viale Europa. Rissa tra amici al ristorante. Due feriti. Uno del gruppo prende le difese del personale che chiedeva di abbassare la musica. In pochi secondi scoppia il parapiglia. Droga nascosta vicino allo stadio. Cane la fiuta e scatta il sequestro. Tutto questo è avvenuto a Francavilla. Pastore tedesco fa ritrovare lo stupefacente occultato nel parco vicino a Valle Anzucca. Il proprietario dà allarme ai carabinieri che scoprono un chilo e mezzo di eroina divisa in tre panetti. Poi ancora in Val Pescara, Bolognano festeggia i 90 anni della chiesa realizzata dai paesani. Quattro giorni di celebrazioni da domani a domenica per la chiesa eretta nel 29 grazie al lavoro della popolazione. Ora le pagine di Chieti e Provincia. Siamo alla cronaca. Anziani truffati. Spariscono 10.000 euro. Caccia alla banda. Due pensionate di Via Don Minzoni e Via dei Platani ingannate con il trucco del pacco per il nipote. Sventato un terzo colpo. E qui c'è un decalogo messo dalle forze dell'ordine proprio per evitare questo genere di truffe. E poi ancora la sentenza. Un cliente lo accusa di usura. Assolto titolare della sala slot. Nuovo processo per Furgiuele. In aula i genitori della piccola vittima si costituiscono parte civile. L'allenatore pedofilo ottiene l'abbreviato. Avanti ancora siamo in provincia di Chieti. In particolare a San Salvo muore a 59 anni. Un mese dopo lo schianto. Anna di Lisa di San Salvo era rimasta coinvolta in un incidente sulla Trignina. La sua panda era finita contro un carroattrezzi. Disposta l'autopsia. E poi ancora a Vasto investe mamma e figlia di tre anni. Poi la fuga. Incidente in via Roma. Indaga la polizia. Forse il conducente è stato ripreso dalle telecamere. Pagine di Teramo con l'ultimo saluto alla vittima appunto del femminicidio della scorsa settimana. Nereto si stringe alla bimba di Micaela. In centinaia anche da Corropoli e funerali della giovane uccisa dal compagno tra palloncini e le canzoni di Renga e Vasco. E poi ancora di spalla camere di commercio. Teramo è tra le 18 sorelle contro il commissariamento. È possibile la nomina da parte del Mise di un funzionario che attui le fusioni per gli enti che non le avranno fatte entro il 2020. L'ira di 18 presidenti ribelli è un atto illegittimo. In taglio basso il PD. Niente fondi per gli eventi del cratere. Pilotti all'assessore regionale Febbo. I soldi del ministero in Abruzzo non vengono ancora assegnati. Poi ancora siamo ad Atri. Nuova discarica il consorzio. Gli ostacoli si possono superare. Presentate le contradduzioni in regione. Il piombafino ritiene inesistente il vincolo ambientale. e punta a spostare altrove le parti dell'impianto che ricadono su aree a rischio frana. E poi ancora le pagine dell'Aquila. Prima di chiudere la prima parte di mattino 6. Capitale dello sport. L'idea che divide. La proposta di Biondi spacca la città. Accuse al sindaco per la fine della massima espressione del rugby. e la crisi del calcio. C'è chi ritiene che il gran numero di impianti sportivi in teoria disponibili faccia ritenere plausibile il progetto. Poi in taglio basso. Casa Museo. Citato il Comune. I signorini corsi. Violato dall'ente. L'onere di custodire la collezione. E poi ancora l'inchiesta a Sulmona. Liquido infiammabile per bruciare l'auto. Tracce lasciate dall'autore del rogo. Ascoltato il 33enne. Sono oltre 60 le vetture distrutte negli ultimi tre anni. Le parole del sindaco Casini. Applicheremo il DASP urbano. Qualora il responsabile venisse individuato dalla polizia. Non merita di vivere nella nostra comunità. Noi ci fermiamo con la prima parte di mattino 6. Ora spazio alle previsioni meteo. Poi la pubblicità. E poi rientriamo per leggere le pagine di messaggero. La città. Quelle dello sport. E vedere altri servizi. Di nuovo buongiorno. Seconda parte di mattino 6. Che apriamo con il messaggero Abruzzo. Ecco qui giro di vite sulle assegnazioni. Fuori i condannati dalle case popolari. Approvata la riforma. Il centrodestra esulta per una legge voluta dall'asse Fratelli d'Italia. Lega svolta storica per Marsiglio. Violenta polemica in aula con pettinari del Movimento 5 Stelle. Scambi polemici anche con Legnini e il PD. L'obbligo di buona condotta esteso a tutti i familiari. Ascoltiamo proprio le parole del governatore Marco Marsiglio dopo l'approvazione di questo provvedimento. Vediamo. Presidente, i principi base di questa legge appena approvata? Ripristino della legalità, rispetto delle persone oneste, garantire la qualità e la dignità della vita delle persone che vivono nelle case popolari. Evitando che divengano, come troppo spesso accade, il rifugio di bande di delinquenti e di criminali che trovano dentro questi alloggi un loro regno inespugnabile. Lei ha parlato di rivoluzione di civiltà, di parità di accesso. Ripristiniamo anche condizioni di parità di accesso che oggi sono di fatto gravemente squilibrate a danno dei cittadini italiani e a favore di cittadini stranieri che non dovendo dimostrare alcunché, potendo presentare delle autocertificazioni con le quali attestano la loro condizione di bisogno, stanno in una condizione di vantaggio rispetto ai cittadini italiani che invece sono sottoposti a controlli molto rigidi e severi. Introduciamo controlli analoghi, paritari anche per i cittadini stranieri in modo che così nessuno abbia posizioni di privilegio o di vantaggio ed estendiamo le categorie che possono accedere ad alcune categorie sociali, le cosiddette nuove povertà, penso ad esempio ai padri separati, ai coniugi separati che hanno un alloggio di proprietà e che gli impedisce di accedere alle cose popolari, ma questi alloggi sono destinati ai loro coniugi separati, ai loro figli, quindi alle famiglie. Si vive in questa condizione paradossale di persone che pur avendo condizioni di bisogno e di necessità non possono accedere alle case popolari. Proseguiamo sempre sul messaggero, sanità tra luci e ombre, cliniche, passo indietro sui ricoveri flessibili e alla Asla di Chieti, sbloccate, 598 assunzioni e poi ancora un tacco rosso per Zaccagnini, vince impresa in Accademia, sfida di marketing tra studenti in Confindustria Chieti-Pescara, la prima azione dei partecipanti. Andiamo ora sulle pagine della cronaca di Pescara, punta in alto lo skyline della riviera, sulle ceneri dei palazzi demoliti sul lungomare nord sorgeranno torri di 6 o 7 piani con garagi interrati, l'architetto Vaccarini firma terrazze e vetrate, vista mare per la Elea, mentre la sguirà di trave si ispira al 100. Risparmio energetico, sostenibilità e recupero del suolo, i criteri alla base per lo sviluppo dei due fabbricati. E poi ancora Antonello Ricci e la Ponzio realizzeranno 11 appartamenti sull'area di Villa Cerceo, Tintorelli, artefice dell'incompiuta, uscire di scena, chiesta la variante, dice l'ingegnere Carlo Galimberti. A piedi pagina a Fontanelli arriva il vigile di quartiere, il sindaco Masci, dice una risposta forte per la sicurezza. Palestini diamo protezione ma anche aiuti e consigli. Andiamo avanti, testa a giudizio per il dragaggio, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia imputato di falso in merito alle procedure di appalto per la pulizia dei fondali del porto. Il politico ex commissario straordinario avrebbe dichiarato la regolarità dei plichi contenenti le offerte delle imprese. Il 10 febbraio davanti al giudice anche due dirigenti comunali e i rappresentanti di 12 ditte. E poi in dettaglio medio, Beleni, mille volte oltre i limiti nell'area dei depositi costieri, assunta dal GIP la relazione del consulente sugli impianti di idrocarburi di Properzio. Proseguiamo, sempre per la cronaca, il cane fiuta un carico di eroina, un chilo e mezzo di droga scovato per caso da un pensionato di Francavilla insospettito dall'agitazione del suo pastore tedesco. Le tre buste abbandonate in un canneto vicino al parco giochi, tra le ipotesi una mossa per sfuggire ai controlli dei carabinieri. Dopo l'allarme, il recupero curato dei carabinieri con l'aiuto delle unità cinofile arrivate da Chieti. E poi ancora a Rigopiano, i parenti in aula contro le archiviazioni, riparte la lotta, dicono, annunciando la partecipazione alle udienze di oggi e domani, salvo sciopero avvocati. E poi in basso leggiamo Nuova Pescara, sia al commissario, l'associazione contro Lega e PD, un errore nella PEC di convocazione, fa saltare la commissione. E poi leggiamo sempre in taglio basso, Russo, l'anniversario di un cronista di razza avrebbe compiuto oggi 59 anni, il giornalista di Francavilla ucciso a Tbilisi, ricorrenza in Sordina. Pagine dell'Aquila, Castello, il nuovo parco è pronto, ora bisogna mantenerlo così. Quasi completati i lavori del secondo lotto, a metà novembre grande festa di inaugurazione, ha sistemato il verde intorno all'auditorium sul piazzale, una ghiaia per facilitare l'accesso. Il presidente della Fondazione Carispac, Domenico Taglieri, dice, luogo fondamentale per la socialità. In taglio medio, ricostruzione da lancia allarme fondi, la proposta utilizzare i residui di dicembre nell'annualità successiva. Città dello Sport, c'è questo dibattito in queste ore, in questi giorni all'Aquila, Città dello Sport, candidatura che divide, fa discutere il progetto europeo che si concretizzerà nel 2022. Bizzarri, scelta giusta, basta piangersi addosso, si lavorerà sodo, l'opposizione attacca De Santis, la situazione è difficile, Palumbo del PD non gettare fumo negli occhi, biondi, ha delle colpe. E poi ancora in Marsica, ad Avezzano, il Tribunale ormai verso la chiusura organico, ridotto all'osso, subito due dati importanti. Il 21 al Ministero, il 24 Summit degli Avvocati, che fa l'ordine sul delicato tema, la politica appare allo sbando, nell'Aquiliano il sisma ancora fa paura, l'autostrada a 24 è spesso a ostacoli. Andiamo avanti, siamo alle pagine di Chieti, apertura dedicata alla cronaca per Furgiuele, nuove accuse, scatta un altro processo. L'ex allenatore, già condannato a 12 anni, ieri ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato, i genitori della vittima, la società di baseball e la federazione nel processo come parti civili, abusi sessuali su un minore durante l'allenamento allo scalo. Di spalla si apre Campus Orienta, va de me cum studentescu, due giorni no stop all'ex foro Boario, per approfondire con gli esperti i vari percorsi. Poi ancora andiamo in basso, Confcommercio Bis per la Tiberio Medicina, ok alle immatricolazioni dal TAR. Poi ancora siamo ad Atessa, intesa per la trasformazione Bluetech, la MASRL di Melfi ha chiesto alla proprietà l'affitto dello stabilimento dove si producono componenti per la Sevel. La proposta è adesso al vaglio delle organizzazioni sindacali. Si dovrà intanto procedere alla nomina di un commissario. Attualmente lo stabilimento occupa 215 lavoratori, compresi quelli di CSA, SRL. Andiamo in taglio medio, Cantina Sociale, la crisi arriva in Consiglio ad Ortona, sabato a convocazione per esaminare la critica situazione con 200 iscritti. Pagine di Teramo sul messaggero, nuovo ospedale e scontro, ci sono segreti industriali, Project Financing, Movimento 5 Stelle contro l'ASRL, non può occultare atti sulla sanità. Di Giosia faremo vedere i documenti non riservati e che non turbino la gara. Poi ancora il consigliere Luca Corona propone il Mazzini trasformato in facoltà di medicina, poi diventi polo universitario. Di Spalla, siamo al comune di Tortoreto, comune troppo litigioso, spese legali in aumento. Poi dice impegno civico, nel 2018 ben 120 mila euro per le cause, basta spreco di soldi pubblici. In taglio basso, in città arriva il Cardinale Bagnasco in attesa del Papa. Sarà domani al Duomo alle 20.30 per due importanti eventi, ma in realtà preparerebbe la visita di Francesco. Andiamo avanti, ecco qui, siamo a Nereto, la bimba al funerale della mamma. In braccio alla nonna, la piccola di sei anni, circondata dall'affetto dei compagni di scuola, hanno fatto volare palloncini nel cielo. Il compagno è in carcere, ristretto nella sezione protetti, la coppia aveva deciso di separarsi, indagini sul movente. Lutto cittadino, ieri a Nereto, per l'ultimo saluto con ritorto ad osso, poi la bara è partita per la Romania. In taglio basso, a Giulianova, elezioni di Costantini, ritiro del ricorso, legal lavoro, ipotesi giunta allargata. Il sindaco, tutto molto fantasioso, grandi manovre nel PD, con Arboretti in poll, sede aperta. Movimento 5 Stelle, invece, attende l'Umbria. Lasciamo il messaggero Abruzzo, andiamo a vedere le pagine della città. Ecco qui, siamo a pagina 3, riforma Ater, approvata tra mille polemiche, duro scontro in aula, nella discussione della nuova disciplina, per l'assegnazione delle case popolari. Andiamo a pagina 5, argomento ex manicomio, cittadella della cultura in appalto a maggio. Intanto, Unite affida a Tetractis il compito di diffondere ciò che si sta realizzando attraverso una serie di eventi. Sabato il convegno dedicato ai quattro progetti presentati per la progettazione preliminare, vinta da Desideri. Vediamo il servizio del TG6. Nei prossimi tre mesi a Teramo si terrà una serie di eventi culturali e di incontri per illustrare alla cittadinanza le idee progettuali sulla futura cittadella della cultura, l'area di 22.000 metri quadri dell'ex ospedale psichiatrico Teramano. Si tratta del più importante progetto di trasformazione urbana mai realizzato nel capoluogo Prutino dopo gli interventi postbellici. L'intera operazione è portata avanti dall'Università degli Studi di Teramo che ha affidato all'Istituto di Cultura Urbana Tetractis il compito di illustrare gli esiti del concorso di idee. La cultura ci salverà. La cultura ci salverà? La cultura ci salverà. Anzi, sarebbe da mettere un altro avverbio davanti, dire solo. Solo la cultura ci salverà. Almeno questa è l'idea che noi ci stiamo facendo in questi anni in cui ragioniamo sempre più su temi che riguardano l'economia, il modo di vivere, di procedere della nostra quotidianità e ci rendiamo conto che per affrontare questo tipo di complessità solo una nuova cultura ci potrà aiutare. Come la vede lei la nuova cittadella della cultura? È come un luogo deputato a intraprendere il percorso di questa nuova cultura. Cioè la cittadella non sarà semplicemente come era un vecchio edificio di una scuola o di un'università o di un museo, ma dovrà essere un luogo estremamente più dinamico proprio per affrontare anche spazialmente quel tipo di difficoltà del mondo in cui viviamo. Il progetto di recupero dell'ex manicomio a Porta Melatina porterà grandi novità anche nell'ubicazione di alcune facoltà dell'Ateneo Teramano che torneranno in centro storico, rivitalizzando così l'area più pregiata nel cuore di Teramo. Un po' di università tornerà in centro? Un po' di università tornerà in centro, tornerà in centro una parte importante dell'università e poi la parte che interagisce molto attivamente con il territorio, quindi direi l'intera facoltà di scienze della comunicazione. Se parliamo della cittadella della cultura non possiamo non parlare del DAMS, non possiamo non parlare dell'intera facoltà di scienze della comunicazione. Quindi il progetto dovrebbe vedere il trasferimento integrale della facoltà e poi vediamo, però la cosa che mi preme sottolineare è proprio il recupero funzionale di quest'area, è la messa a disposizione quest'area dal punto di vista culturale, ma anche della fruizione quotidiana per i cittadini terramani. Il mio sogno è quello di avere un'area aperta, quindi i cortili dove sono stati ritrovati anche delle pavimentazioni romane a disposizione completa della cittadinanza. Proseguiamo sempre sulla città di Giosia, al fianco dei manutentori della ASL, il manager minaccia la risoluzione contrattuale se non verrà erogato quanto dovuto ai lavoratori. Poi sul fronte ai pagamenti ASL c'è il concordato, spiegato il motivo per cui la ASL non può surrogare il pagamento del dovuto. Allarme legionella anche alla prefettura, dipendente pubblica si ammala, scattano gli accertamenti per individuare l'origine del batterio killer. Poi ancora pagina 8 a dicembre scatta il trasloco delle superiori, parte dell'Einstein al Comi, parte dell'Alessandrini all'Einstein, nelle aule andranno gli studenti del Marino. Poi ancora rischio commissariamento per la Camera di Commercio, Lanciotti con altri 17 presidenti dissidenti, denuncia il tentativo antidemocratico di Union Camere. E poi ancora emergenza Ratti in centro storico, topi a spasso davanti alle attività commerciali, oggi scatta la derattizzazione, chiaramente nel centro storico di Teramo. E poi ancora a sua arma si raduna a Teramo, venerdì la cerimonia dedicata alle forze armate con corteo, fanfara ed eventi. Qui siamo a Montorio dove c'è fibrillazione in seno all'amministrazione comunale. Tanti buoni motivi per restare al mio posto. Lettera aperta del sindaco Egno Facciolini ai cittadini per elencare progetti e programmi già avviati. Saranno realizzati gli interventi in gran parte già entro il prossimo anno e serviranno per rilanciare il nostro paese e l'intero territorio circostante, dice appunto nella lettera Egno Facciolini. Andiamo avanti. Femminicidio a Nereto. Due comunità unite in ricordo di Micaela. Grande partecipazione ieri pomeriggio ai funerali della madre, 32enne uccisa a coltellate dal compagno. Il ferro è stato accompagnato da palloncini bianchi e rosa e dalla musica delle canzoni di Francesco Renga e Vasco Rossi. Poi ancora interventi al Parco Franchi. Siamo in questo caso a Giulianova. Dopo le polemiche, il comitato Lido torna a chiedere la riattivazione delle telecamere per garantire maggiore sicurezza. L'ultimo atto ai danni del parco parla di un cestino di rifiuti sradicato e gettato a terra. Poi a Roseto, nuovi interventi per il borgo di Montepagano, pavimentazione in Corso Umberto, via Santo Spirito e abbattimento delle barriere architettoniche. Sempre a Roseto, studenti da giorni senza scuolabus. La denuncia del consigliere Egno Pavone per il disservizio a San Giovanni. L'attacco. Nessun avviso o risposta ai genitori. La dimostrazione del disinteresse del sindaco per le frazioni. Apriamo in questa parte finale la parentesi dello sport. Ecco qui sulla città, argomento Teramo Calcio. Un paio di risultati buoni per la svolta. Parla Costa Ferrera, migliore in campo al Viviani. Il terzino l'ho fatto solo per mister italiano. Prima gara da titolare. Una settimana in più di lavoro mi darà i 90 minuti nelle gambe. Situazione complicata mi è già successo a Lecce. Minelli è tornato in gruppo, Soprano ancora indisponibile. Andiamo a vedere le prime pagine delle testate sportive nazionali. Ecco qui la gazzetta dello sport che apre con rullo azzurro. Mancini e Guagliapozzo, doppietta di Belotti. La nona vittoria di fila per l'Italia del Mancio. Il gruppo sente la maglia. In gol Bernardeschi. Anche Bernardeschi, Romagnoli e del Sciarawi. E poi questa intervista esclusiva a Mauro Icardi. Sotto la testata leggiamo. Icardi lancia l'Inter. Scudetto con Conte può essere l'anno ok. Lukaku si ambienterà. Di gol ne farà tanti. Se dovessimo incontrare i nerazzurri in Champions. Darò tutto per il Paris Saint-Germain. Poi ancora di spalla. Il saluto militare dei turchi. L'UEFA apre una indagine. Andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Che apre con Vittorio. Nono successo di fila. Dopo 80 anni Mancini e Guagliapozzo. Italia già qualificata. Che travolge Lichtenstein 5 a 0. E poi ieri la visita nella redazione del Cor Sport del presidente della Lazio Lotito. La mia Lazio spaglia il muro. Ultimatum del presidente a Inzaghi e ai giocatori. E' finita la stagione dei diritti. Questa è quella dei doveri. O una Ferrari voglio la Champions. E poi Turchia sotto indagine per i saluti militari. La prima di tutto sport. Con l'intervista all'agente di Cristiano Ronaldo Mendes. CR7 meglio di Pelé. L'agente di Ronaldo garantisce. Cristiano è il più forte di sempre. Per lui il meglio deve ancora venire. Arriverà con la maglia della Juve. E poi sotto la testata. Implacabile Italia. Storico Mancini. 9 vittorie di fila. Come Pozzo nel 38-39. Di spalla Allegri. Un United a un passo. Max a fretta. Con lui Can e Mandjukic. E poi ancora ricorso della fede del calcio respinto. Mazzarri in panchina a Udine. Successo Toro. Torniamo dunque sulle pagine dei quotidiani locali. Siamo sul centro. Ecco qui con la pagina dedicata alla vittoria degli azzurri in Lichtenstein per 5-0. Con una particolarità. Ecco qui la manita dell'Italia di Capitan Verratti. Il pescarese per la prima volta con la fascia. Gli azzurri già qualificati rifilano 5 gol a Lichtenstein. Doppietta di Belotti. Andiamo avanti. Questa è la vicenda che ha caratterizzato il pomeriggio di ieri. No al razzismo. Il Pescara espelle il tifoso dai social. Il club blocca un sostenitore su Twitter dopo alcuni insulti per un messaggio contro la discriminazione razziale. Da gravina e balata e pioggia di consensi. Vediamo quello che è successo appunto ieri con il tweet incriminato del tifoso. Tweet contro gli atteggiamenti del Pescara tesi appunto a combattere il razzismo. State per perdere un tifoso fate voi. Chiude così il tweet. E la risposta del Pescara facciamo noi bene. Signore e signori Andrea il nome del tifoso non è più un nostro tifoso. No al razzismo. No to racism gli hashtag. E poi dopo questo tweet pioggia di consensi. Sono arrivati i tweet anche del presidente federale Gravina. Del presidente della lega di Serie B Balata. Tutti di estremo apprezzamento per come il Pescara porta avanti la sua battaglia contro il razzismo. E per aver diciamo così cacciato tra virgolette questo suo tifoso. E poi ancora in basso in vista di Spezia Pescara. Angelozzi da Atri a La Spezia. Abruzzo Casamia. Il DS dei Liguri racconta le sue origini. Sono nato a Catania ma ho la testa dura degli abruzzesi. E poi ancora c'è questa due pagine del centro sulla promozione del 78-79 del Pescara in Serie A. Liti e due lismi poi il mito dei 40.000. La seconda promozione in Serie A del Pescara rivissuta attraverso aneddoti e curiosità. E in queste due pagine c'è anche la foto di gruppo di quel Pescara che era guidato in panchina da Antonio Valentin Angelillo con i vari nobili. Zucchini, Repetto, anche l'ex DS Biancazzurro Pavone in quella squadra. Andiamo avanti. Siamo alla Serie C. Costa Ferreira. Tanti errori. Ora bisogna usare la testa. L'esperto centrocampista portoghese scuote il Teramo. I cali di concentrazione è il nostro punto debole. I dettagli faranno la differenza. Bombaggi e LASIC in gruppo. Poi ancora per il basket di Serie B. Cohen scuote il Chieti. Teramo alla riscossa nel debutto casalingo. Turno infrasettimanale con le abruzzesi a caccia di riscatto. Giuliano e Senigallia si affidano a Hidalgo e Piccone. Poi per il ciclismo. San Salvo, Tortoreto, tappa del giro. Non è ufficiale ma ormai la decisione è presa. RCS vuole un tracciato impegnativo per i corritori. Giovedì 24 durante la presentazione dell'edizione 103 a Milano sarà reso noto il percorso. Il 9 maggio la partenza da Budapest, tre frazioni ungheresi e poi la Sicilia. Rapidamente anche con le pagine dello sport del messaggero Abruzzo. Ecco qui con le parole del presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Voglio il Pescara vincente di Ascoli. Non contano i moduli quanto la grinta. Quella era la mentalità giusta. Poi sul mercato. Brunori e Galano sono certezze. Prima di fare nuovi acquisti vorrei aspettare. Anche il messaggero ovviamente dà spazio alla vicenda social di ieri. Il Delfino caccia il tifoso razzista dai social. Qui si vede in maniera ancora più nitida. Facciamo noi. Bene, signore e signori. Andrea non è più nostro tifoso. E poi gli hashtag per il no al razzismo. Per il volley in basso. Franco e Matteo Bertoli insieme a Ortona. Generazioni ha confronto la leggenda. Eccolo qui Franco Bertoli. Ieri all'allenamento della SIECO incontra il figlio. Poi ancora Serie C. Teramo Costa Ferreira più attenzione e pazienza. Il giocatore portoghese unica nota positiva della partita persa con il Potenza. Dobbiamo evitare cali di concentrazione. Adesso sono il nostro punto debole. Di spalla per il campionato di eccellenza. Un lanciano super in testa della classifica. La prima sconfitta a Castelnuovo-Vomano. E' solo un ricordo. E poi l'Aquila bomber carosone. Voglio tornare in campo. E per il basket. Sharks carica e orgoglio per affrontare Immola dopo la vittoria allo scadere. In maniera clamorosa con un tiro da metà campo. Nella gara di Caserta. Vinta i supplementari 113 a 112. Finiamo qui questo appuntamento con Mattino 6. Vi ricordo le edizioni principali dei nostri notiziari. Per la nostra informazione. Ore 14, ore 19 e ore 23 per il TG6. Invece Mattino 6 torna domani alle ore 8. Io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo. E ringrazio voi per la cortese attenzione. Buona giornata. E ringrazio voi per la cortese attenzione.